Buongiorno e buon venerdì. Allora pollicione, se volete iscrivervi vi ringrazio, attivate la campanina per ricevere le notifiche e ringrazio tutti quelli che condividono, commentano e sostengono questo canale e ci aiutano a far crescere questo e secondo canale. Vi chiedo scusa anticipatamente se sentirete dei rumori durante la registrazione perché ho i pelosi che sono in stato cosacco e stanno devastando tutto quello che gli capita a tiro. Allora, è un video composito perché toccherà diversi argomenti, cioè l'ADI, la domanda per l'ISCRO e anche alcune cose che riguardano le pensioni. Partendo dall'ADI, e troverete qua sotto nei commenti anche i commenti di Michael che fanno proprio riferimento a questo argomento, così potete leggervi l'intero testo. Le dimissioni volontarie degli over 60. Allora, voi sapete che con l'RDC era impossibile presentare dimissioni volontarie per accedere all'RDC. Se lo facevate, addio, non potevate entrare nell'RDC. Anche se l'RDC come l'ADI tecnicamente erano misure di sostegno al reddito, la presentazione di dimissioni volontarie implicava una volontà non accettabile da parte del governo di accedere a un beneficio quando tecnicamente non avresti bisogno. Con l'ADI si può fare per gli over 60, però due cose. La prima, se scegliete questa strada, verificate bene con l'IMSS e ricordatevi che avete 15 giorni dal momento delle dimissioni volontarie per comunicare la cosa all'IMSS. Se superate i 15 giorni, sono dolori di pancia. È draconiana questa misura, non prendetela sotto gamba. Anche perché sapete come funziona bene l'IMSS, quindi. La seconda cosa, fate un'attenta valutazione dei vantaggi. Cioè presentare dimissioni volontarie. Ovvio, se avete delle problematiche di salute, delle problematiche fisiche, non ce la fate più. Però rimane sempre il discorso, valutate bene il rapporto economico. Perché se fate questa cosa e poi ci perdete economicamente, pensateci su. Perché il rischio c'è. Anzi, è alto il rischio in questo senso. Perché se è vero che la quota media dell'ADI è un pochettino più alta di quella dell'RDC, perché nell'RDC c'erano molte più persone, quindi il bacino era più ampio e la quota media si abbassava in questo senso. E il 33% dei percettori RDC circa erano occupati, quindi fattualmente ricevevano solo un'integrazione al reddito. Quindi pensateci su bene. Sempre relativamente all'ADI, la questione del cambio alloggio, del cambio casa. L'ha spiegata bene Bobby sotto il video di mercoledì. Ne abbiamo accennato anche nella live di mercoledì. Nel video di lunedì, scusatemi. Ne abbiamo accennato sotto live di mercoledì. Scusate ancora, stanno vedendo se riescono a distruggere qualsiasi cosa che si muove. Io non so come fanno con sto caldo, ma hanno le pile nucleari. Nel momento in cui cambiate alloggio, dovete comunicare immediatamente la cosa. Immediatamente, il più in fretta possibile, il cambio d'alloggio all'IMSS attraverso la DICOM esteso. Perché altrimenti, in caso di controllo a campione, non troveranno la difformità tra l'alloggio, che non è più in vostro possesso, e la nuova residenza. E questo comporterà la sospensione, o peggio, dell'ADI. Non solo quello, relativamente poi all'aspetto che riguarda la quota affitto. Allora, ricordatevi una cosa. La quota affitto è una cifra che ha un massimale di 280. Sopra quel massimale non si va. Quindi se passate da un alloggio che ha un affitto di 400 a uno che ne ha di 500, sempre 280 vi danno. Non cambia niente in quel senso. Ma va comunicato. Per poter avere la quota affitto, bisogna comunicarla attraverso l'ISEE. Dovete rifare l'ISEE. Infatti l'ISEE corrente. O l'ISEE esteso. Lì dovete confrontarvi un attimo con i CAF. Per poter poi accedere alla quota d'affitto. Perché altrimenti, se non fate questo, nel momento in cui lasciate la casa, quindi non ne siete più titolari, perdete la quota affitto. E se non rinnovate l'ISEE inserendo un nuovo appartamento, non la troverete più nell'ADI. Un'ultima precisazione, proprio specifica, per gli alloggi delle case popolari. Gli alloggi delle case popolari, il numero del contratto, quello che è tecnicamente già registrato all'agenzia delle entrate, le case popolari non possono fare contratti a cavolo. Quando vi consegnano le chiavi e firmate il contratto, il contratto è già in registrazione all'agenzia delle entrate. Quindi, il numero del contratto generalmente è nella prima pagina, nella parte alta del modulo. Però, se avete dei dubbi, fate una cosa molto semplice. Chiamate l'ufficio delle case popolari che vi ha dato l'assegnazione e chiedete. Non è un'informazione coperta da chissà cosa? Ve la danno tranquillamente, potete poi trascriverla e inserirla nella documentazione. Non preoccupatevi, perché non è un dato difficilmente reperibile. Anzi, è estremamente facile da reperire. Comunque, generalmente è riportato proprio nel testo del contratto. La seconda cosa, l'ISCRO. Da alcuni giorni si può fare la domanda per l'ISCRO, cioè la disoccupazione, l'identità di disoccupazione per i simili professionisti. Io vi raccomando caldamente di farla al più presto, anche se purtroppo, sapete, si entra in agosto. E in agosto i CAF, i patronati, sono tutti chiusi. Tutti. Non ce n'è uno che si salva. Quindi, non è un problema da poco. Anche perché va accaduta con il fatto che gli assistenti sociali cominciano le rotazioni delle ferie. E può capitare, soprattutto nei piccoli centri, che gli assistenti non siano allocati, ma ruotino. Cioè, se il paese è piccolino, l'assistente c'è solo in determinati giorni. Quindi questo crea ulteriori problemi. O nei grandi centri che gli assistenti siano parcellizzati. Cioè, hanno delle specifiche indicazioni di utenza. Cioè, ci sono assistenti che guardano gli over 60. Ci sono quelli che guardano gli under 60. Ci sono quelli che guardano le famiglie, eccetera. E quelli generalmente non si spostano, non fanno cambio. Per cui, c'è anche questo aspetto. L'atto agosto è critico per questo. Quindi, tenete conto di queste difficoltà. Oltre al fatto, come avrebbe detto, che l'Inps fa le rotazioni per le vacanze. Per cui il personale, che già non è sufficiente, diventerà ancora più limitato. La terza cosa riguarda le pensioni. Ed è una delle cose critiche. Allora. Se qualcuno di voi ha ricevuto la comunicazione. Perché questa cosa dovrebbe essere stata comunicata direttamente a voi dall'Inps. Anche attraverso raccomandata. Quindi. Entro il 15 settembre, e che è statutario, anche qui non si può tanto scivolare. Chi ha redditi addizionali, oltre alla pensione. Sostanzialmente, chi presenta 7,30. Ecco, per semplificare un po' le cose. Anche se è una semplificazione magari eccessiva. Deve assolutamente presentare entro il 15 settembre la documentazione che riguarda gli anni che vanno dal 2020 al 2024. Altrimenti, come ha fatto giustamente notare Alessandro Mr. Lui, si partirà con una decurtazione del 5% sulla pensione, fino ad arrivare al blocco della pensione. E in quel caso bisogna rifare tutto da capo. E perderete mesi e mesi, perché c'è da rifare la ricostituzione e tutto qua. Si perdono mesi. Tanti. Soprattutto in certe regioni. Dove veramente l'Inps, vabbè, si è visto fattualmente come lavora male. Quindi, chi ha questa problematica, agisca il più in fretta possibile. Se avete dei dubbi in questo senso, io continuo a raccomandarvi, anche in una situazione in cui appunto il personale è il più limitato, andate direttamente all'Inps a chiedere, ma io devo farla questa cosa o no? Fa niente se l'impiegato sbuffa. Lui è pagato per rispondere a voi, non per sbuffare perché gli fate una domanda che secondo lui è inutile. Perché in caso di problemi, siete soltanto voi a andarci di mezzo. Loro non rischiano niente. Siamo bravi tutti a fare i coraggiosi con il posteriore degli altri. Quindi stateci attenti, perché non è una sciocchezza da poco. Non è una sciocchezza da poco perché il danno è pesantissimo. Chi invece riceve solo la pensione, sostanzialmente ha solo il cud e così, non ha problemi in quel senso. Perché la pensione è quella, se dal 2020 o 2024 avete solo quella, cosa volete portare? Niente. Sempre in merito all'Inps, qui abbiamo chiesto una conferma, i rimborsi dei 7,30 dovrebbero, secondo quello che ha comunicato l'Inps, partire da settembre? Poi vediamo, perché un conto è lo dicono, un conto è lo fanno. Perché l'Inps funziona così. Mentre invece, devo fare un salto ancora indietro per l'Adi, il calendario, tra poco uscirà il calendario nuovo, che coprirà da agosto fino a dicembre delle date di pagamento. Calendario assolutamente inutile, perché da gennaio a luglio non hanno rispettato una data che sia una. Hanno sempre anticipato le lavorazioni, le hanno magari fatte su più giorni, e tutte le volte magari anticipavano i pagamenti, e poi comunque tornavano sempre al giorno che avevano indicato. Quindi potrebbero anche evitare di pubblicare un calendario che poi non viene seguito, perché sembra un po' una presa per i fondelli. L'ultima cosa, ovviamente se avete delle domande scrivete qua sotto, Michi vi rimetterà appunto la questione delle dimissioni volontarie mettendovi tutta la norma, caricando la norma nei commenti. L'ultima cosa è una bisaglia per il futuro, fatta da Giorgetti. Giorgetti ha già detto che la prossima manovra sarà responsabile, pensata, ragionata. Allora io la traduco per il volgo, cioè la traduco per le persone che non vogliono essere prese in giro dai paroloni. Non ci sono soldi, non sappiamo come fare, e quindi sarà la classica manovra da fatevi un altro buco nella cintura che male non fa. Perché? Perché già, come abbiamo fatto a notare Bobby nei commenti mercoledì, c'è una ghigliottina sulla testa dell'Italia, cioè il dover restituire 15 miliardi all'anno per 10 anni, non propriamente una cifretta da poco. Questo cosa comporta? Comporta una necessità di una manovra, cioè di un'uscita aggiuntiva, perché le manovra tecnicamente sono soldi da spendere, di 33-35 miliardi, perché una manovra per avere, diciamo, un minimo di impatto deve essere almeno sui 18-20. E l'Italia di soldi non ne ha. Inutile prendersi in giro, non ci sono soldi. Nonostante le trionfalistiche dichiarazioni della ricottara, il lavoro non è assolutamente aumentato, a meno che si continui a contare come si fa il lavoro di una settimana come fosse un lavoro a tempo pieno. Queste sono prese in giro e basta. Ci sono perdite in tantissimi settori economici. Ma non da poco. Poi, sapete, c'è una situazione contingente in cui la ricottara deve andare da gioventicello a prendere la lista della spesa, perché se no, vuoi mettere... Quella del... è finita la pacchia, ricordatevelo. Quindi, ragazzi, io non vedo bene l'autunno. Spero che arrivi in fretta, così ci togli dalle balle, da questa cappa termica. Ma io, fortunatamente, all'inizio di settembre torno a casa, dove ci saranno sempre 35 gradi. Però la notte scendono a 19, si respira. Qui da voi, la notte scendono a 27, cacchio, e c'è un'umidità che... Cioè, se la spremi ci fai il purè. Per cui, non vedo bene la situazione, soprattutto anche nell'ottica dell'aumento delle pensioni di invalidità parziale. Anzi, stanno oltretutto picchiando e alcune persone non vedono più la maggiorazione, la maggiorazione al minimo. Cioè, la famosa maggiorazione al milione, no? Definizione un po' così. Magari, vede essere un milione di euro, una volta solo siete sistemati, ma... Stanno sparendo anche queste maggiorazioni. Gente con la pensione che era stata messa... Era stata aumentata, appunto, per l'incremento e vede sparire l'incremento. Io non so esattamente cosa vogliono combinare, ma se vogliono ridurre ancora più il paese in condizioni critiche di quanto lo è adesso, la strada è quella giusta. E chiudo sulla domanda che mi ha fatto Elena in live in merito a quello che è successo a Napoli. Secondo me non faranno niente. Non faranno niente perché che le vele fossero costruite con materiale di risulta, per essere gentili, vabbè, si sapeva. Che ci hanno mangiato su. Ma che siccome tutte le volte in Italia funziona così, cioè prima si ignora tutto, poi capita la disgrazia, e dopo che è capitata la disgrazia si indignano tutti, e una volta che si sono indignati tutti, passa il periodo dell'indignazione e tutto rimane come prima. Magari assegneranno nuovi alloggi a quelle persone, non lo so, però, ecco, spero per quelle persone, sinceramente, che non facciano la fine della persona né dell'aquila. Che le fanno girare come trottole e continuano a stare dentro abitazioni assolutamente non abitabili, soprattutto in questo periodo. Ciao a tutti!